Oh, sentite questo, sentite. Ricoverati di urgenza all'ospedale due gemelli siamesi. I due stavano litigando quando a un certo punto un passante li ha devisi. Senti qua, questa disgrazia. Che è successo? Precipita dal quinto piano e muore. Mamma mia. Lascia la moglie, tre figli e la finestra aperta. Non ci stanno in contatto, non è giusto. Stiamo in un po' più da te. Ehi ragazzi, sentite questo annuncio. Uomo con un braccio solo offresi per posto di vigile urbano in strada a senso unico. Comunque, questo è un vero affare. Vendo paracadute usato solo una volta. Mai aperto. Non lo sentite. Poi mi è piaciuto. Se siamo, tu non sai mai come non lo chiudo. Invece è che se... Io non lo compro il vento lì. Scappare.